Abituati ormai a convivere con nubi fraggi e allagamenti, ecco uno strumento in più per fronteggiare le emergenze legate al maltempo. La protezione civile messinese ha consegnato alla sede di Capodorlando un'idrobora, una grossa pompa in grado di aspirare fino a 3.000 litri di acqua al minuto. Analoga dotazione verrà effettuata oggi nella zona ionica. I recenti eventi hanno dimostrato ancora una volta la necessità che sul territorio ci sia qualche attrezzatura in più. Abbiamo colto l'occasione di dotare l'amministrazione comunale e il gruppo comunale di quest'idrobora. Sappiamo quale sia l'attenzione che l'amministrazione pone nei confronti delle problematiche di protezione civile. Sappiamo anche le capacità e le qualità del gruppo comunale che sono importanti sul territorio. Sappiamo che è comunque un'attrezzatura che è in buone mani e che sarà sfruttata nel migliore dei modi. Per il comune di Capodorlando la consegna dell'idrovora è un segno concreto della collaborazione instaurata con i vertici della protezione civile. Il nostro gruppo è sempre stato attento e presente quindi è un'attrezzatura che sarà utile. Noi speriamo di non utilizzarla ma sostanzialmente visto i precedenti sarà molto utile e andremo a fare un buon uso. Grazie. 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 Grazie.